90.000 dosi distribuite in Toscana, 60.000 delle quali già somministrate dall'inizio della campagna a cittadini oltre i 65 anni. Sono questi i numeri relativi ai lotti del farmaco Fluad prodotto da Novartis che l'Agenzia Italiana del Farmaco ha deciso di bloccare in via precauzionale dopo che 5 persone sono morte in seguito alla sua somministrazione. Tra i casi ufficialmente segnalati è anche quello di un 89enne di Prato deceduto il giorno successivo a quello del vaccino. Quindi ora abbiamo questa segnalazione. Segnalazione vuol dire che comunque siccome l'evento è avvenuto entro le 48 ore da quando c'è stato il vaccino può essere, c'è un punto interrogativo, può essere o non può essere. Per sapere se esista o meno un nesso tra il farmaco e i decessi ci vorrà almeno una settimana e gli accertamenti sono ora in corso anche sulla morte di un 84enne a Firenze, quattro giorni dopo l'iniezione. Intanto la Procura di Siena ha aperto un'inchiesta su Novartis e quella di Prato, un fascicolo esplorativo con cui potrebbe chiedere la riesumazione della salma. A questo momento non è stata richiesta i riscontri autoptici dalla famiglia e nel Medio Medicino Generale. Noi abbiamo fatto una segnalazione alla Procura della Repubblica perché questo è dovuto e vedremo l'evolvere della situazione. E se le ASL di Pisa e Arezzo hanno comunicato di non avere alcuna dose dei lotti in questione, assessore e dirigenti sanitari cercano di spegnere ogni allarmismo, spiegando a chi si è già sottoposto al vaccino che eventuali effetti collaterali avrebbero dovuto comparire in tempi molto rapidi e che fino al caso di Prato, al servizio toscano di farmacovigilanza, non era arrivata alcuna segnalazione. Con onestà intellettuale mi sento dire anche da medico che chi ha già ricevuto il vaccino, quel tipo di vaccino, da qualche giorno si preoccupi di altre cose. L'invito insomma è quello di continuare a vaccinarsi perché hanno assicurato ogni anno sono decine le persone che muoiono per le complicanze dell'influenza e il vaccino, soprattutto per la popolazione più anziana, resta sempre l'arma più efficace di difesa. Un nuovo fiorentino a Roma ad occupare la prestigiosa posizione di presidente di FederCasa, la federazione nazionale che si occupa delle abitazioni sociali, case popolari e dell'edilizia residenziale pubblica e che gestisce in Italia oltre 950.000 alloggi. Luca Talluri, già presidente di Casa S.p.A., è stato eletto oggi a Genova come successore dell'uscente Emilio Ettore Isacchini. Ringrazio il presidente uscente Isacchini per il lavoro svolto insieme in questi tre anni, ha commentato Talluri, ringrazio i miei collaboratori che mi hanno aiutato a lavorare e crescere e la struttura di FederCasa che si è dimostrata all'altezza nelle esigenze delle aziende associate. Per quanto riguarda l'aspetto programmatico, ha proseguito, mi impegnerò insieme agli associati della federazione per il rafforzamento di questo mondo che sarà chiamato ad essere oggetto di scelte politiche importanti. Il tema delle case popolari e del resto è particolarmente sentito in questo periodo, soprattutto a causa di una crisi economica che ha fatto schizzare le richieste e imposto quindi una riorganizzazione organizzazione complessiva e strutturale dei metodi di assegnazione degli alloggi e delle modalità di ingresso. Un processo da portare avanti instaurando uno stretto dialogo con i ministeri competenti del governo Renzi. Dobbiamo essere presenti sui tavoli delle discussioni, delle decisioni, proprio perché il tema della casa è diventato una priorità, ha concluso Talluri, non solo perché c'è una crisi economica che spinge molte persone ad avere esigenze più pressanti, ma anche perché la politica dovrà riorganizzare quel mondo dell'abitare sociale nel quale noi dobbiamo rimanere protagonisti, elemento centrale dell'aspetto gestionale e organizzativo. Classe 1974, laureato in ingegneria, ambiente e risorse, Talluri è diventato presidente e amministratore di Casa S.p.A. nel 2010, mentre nel 2012 era diventato vicepresidente dell'ente che da oggi guiderà, FederCasa. Nel suo passato anche l'Agenzia Fiorentina per l'Energia, che ha presieduto e l'assessorato all'ambiente del Comune di Firenze, dove in qualità di capo segreteria ha lavorato a stretto contatto con l'attuale Premier Matteo Renzi, allora sindaco della città gigliata. Accordo quasi raggiunto tra proprietà e lavoratori della Mannella S.p.A. Il 27 novembre si è tenuta l'Assemblea sindacale che ha definito le basi sulle quali verrà proposto e probabilmente anche accolto un accordo tra la proprietà e i dipendenti della Mannella S.p.A. Il compromesso è stato raggiunto grazie alla rinuncia dell'azienda a togliere le indennità dei pasto e dei trasporti a lavoratori. Fino alla fine del 2014 verrà poi incentivata la mobilità volontaria ed infine ci sarà il rinnovo del contratto di solidarietà di 12 mesi con un'opzione per altri 12. Il 2 dicembre è stato fissato l'incontro tra le parti che porterà alla firma dell'accordo e quindi anche alla sua ufficialità. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!